Vogliamo il primo livello per l'ospedale a Pelaiello e lo slogan che si parte proprio da questo corteo qui a Mazzara del Vallo che avrà inizio proprio di fronte all'ospedale che ancora deve aprire, un ospedale che in realtà hanno sempre detto che è un ospedale di primo livello in quanto a tecnologia e innovazione. Per quanto riguarda i piccoli decreti che sta facendo l'assessore Gucciardi, non si parla di un primo livello ma si parla comunque di un ospedale di base. Noi oggi siamo qua per dire in sostanza che abbiamo bisogno di un ospedale, la struttura la vedete è un ospedale di primo livello e quindi ci stiamo battendo solo esclusivamente per avere comunque un ospedale che abbia tutti i requisiti con dei reparti di eccellenza. Bene, un ospedale lo vogliamo grande, lo vogliamo imponente e lo vogliamo di primo livello. Noi veniamo da sette anni di sacrifici e malavita e ora che abbiamo la struttura pronta vogliamo un ospedale di primo livello che possa soddisfare sia tutti i cittadini mazzaresi sia tutti quelli della zona che ne possano approfittare perché questo ospedale che è una struttura all'avanguardia può dare veramente dei servizi ai cittadini importanti e noi pretendiamo questo, ma e se non ci interessano, vogliamo le risposte, fino a questo momento non abbiamo in mano niente abbiamo ancora per dire la verità l'ospedale di uso, quindi questa manifestazione è per dare dell'importanza alla politica e che la città di Mazzara del Vallo non sarà a dormire e sarà attiva, questo è soltanto l'inizio di tutte le manifestazioni fino a che questo ospedale avrà la giusta e adeguata apertura e soprattutto l'efficienza che merita. Bene, questo qui è soltanto l'inizio quindi? Sicuramente l'inizio, oggi noi abbiamo coinvolto una città e vedete qua dietro che è già comunque abbastanza numerosa sarà l'inizio comunque di una battaglia pacifica per portare avanti le nostre idee perché secondo noi riteniamo comunque di essere in grado di portare avanti questa battaglia. Bene, non soltanto le scuole, vedo tantissimi ragazzi ma anche proprio cittadini, gente comune, lavoratori. Esatto, ma soprattutto il cuore di Mazzara, questa è Mazzara perché quelle che hanno bisogno dell'ospedale non è la politica, non è quella che dice una cosa, sono i cittadini che hanno bisogno dell'ospedale, gli anziani, ci sono i disoccupati, ci sono i lavoratori, molte attività hanno chiuso però questa è una cosa che deve convincere che tutti, questo è un bene che riguarda tutti ci sono molte persone ma ci sono anche persone che si sono alzate come al solito le spalle e si sono girate è una minima parte, l'ospedale aprirà per tutti e l'efficienza l'avremo per tutti, non per una minima parte quindi io ringrazio veramente di cuore tutte le persone che sono qua che portano dignità a questa città. Un corteo importante, un corteo per la Belaiello, tanta gente presente? Direi che sono presenti tante persone e tanti contribuenti perché credo che sia un momento importante i nostri soldi sono alla nostra sinistra, spesi bene secondo me per fare un ospedale di gran livello tecnico è bene che diventi un ospedale di gran livello professionale, di gran livello medico quindi ci aspettiamo che sia definitivamente stabilito che l'ospedale di Mazzara non può che essere primo livello grande struttura, grande tradizione, non dimentichiamo la tradizione della Belaiello che è stato un riferimento per tutto questo bacino e grande bacino di utenza possibile fare altre, non dico sotterfugi, la parola non mi piace, ma insomma fare escamotaggi che dicono e non dicono non va bene l'ospedale è semplice, può essere di primo livello, lo deve essere, che si pronunciano tutti che ha responsabilità di governo della sanità e si pronunciano anche i nostri politici locali Ma secondo lei perché è stato classificato di basse e non di primo livello, una struttura che comunque è all'avanguardia? Ma intanto diciamo che non è stato classificato nel senso che è tutto in divenire e che è bene che si sappia questa cosa non ci sono decisioni prese, le decisioni così come sono tratteggiate hanno più secondo me il sapore degli spot elettorali o elettoralistici che è di una presa di posizione tecnicamente valida ed essere qui oggi significa siamo convinti di questo, siamo convinti che non si può lavorare con gli spot elettorali si deve lavorare sul piano tecnico perché compete ai tecnici stabilire qual è il livello di questo ospedale e lo sappiamo tutti che è un livello per definizione primo e siamo i primi Anche organi istituzionali al corteo questa mattina qui a Mazzara del Valle abbiamo due consiglieri comunali il consigliere Randazzo e il consigliere Foggia come avete deciso quindi di partecipare a questa manifestazione? In che modo difenderete l'ospedale? Guardate, oggi la nostra partecipazione non è dovuta semplicemente al fatto che umilmente ricopriamo un incarico istituzionale noi ci partecipiamo perché siamo prima di tutto figli di questa città è chiaro che Mazzara ha subito un torto e chi se non i consiglieri comunali che in maniera trasversale ammainando le bagniere di partito devono protestare e manifestare accanto alla propria gente da domani si aprirà un'altra partita quella fatta dal tavolo dei cosiddetti palazzi dei bottoni in cui noi consiglieri comunali con le nostre azioni su carta scritta metteremo in atto determinate iniziative tese a parlare con chiunque se occorre anche col ministro per riconoscere a Mazzara del Vallo quello che gli spetta per legge il primo livello e dare quindi un senso a questa meravigliosa struttura che è costata circa 40 milioni di euro di soldi pubblici Consigliere Cancemi, un corteo per difendere la Belaiello ma la politica cosa fa per la Belaiello? Non voglio riferirmi ad oggi alla politica perché non voglio fare nessuna polemica oggi noi legittimamente da persone per bene, educate, da persone civili manifestiamo per ottenere quello che secondo noi per diritto ci spetta oggi manifestare in Italia è sempre stato un diritto dei cittadini manifestare rispettando le regole e noi vogliamo rispettare le regole questa è una di quelle azioni che intendiamo intraprendere per raggiungere un obiettivo e l'obiettivo sicuramente non è solo il mio o del consigliere Foggio o del consigliere Randazzo l'obiettivo è per l'intera cittadinanza noi oggi abbiamo una struttura che fa invidia a chiunque chiunque conosca il settore sanità, chiunque conosca le reti ospedaliere fa invidia perché abbiamo una struttura che è costata 40 milioni di euro solo per ristrutturarla e per creare delle aree nuove oggi noi non possiamo perdere questa opportunità è un treno che sta passando e che grazie purtroppo a chi non fa solo amministrazione o solo politica ma fa a volte anche interessi personali noi ci stiamo privando di un servizio e di un bene importantissimo noi siamo qua e vogliamo esserci fino alla fine a raggiungimento dell'obiettivo Campanilismo o razionalità? A prescindere dal campanilismo oggi una politica seria sarebbe qui sia una persona che sia di destra o di sinistra l'obiettivo è il nostro ospedale il nostro, non il mio ospedale io ho sempre detto che comunque noi siamo di passaggio Randazzo, Cangemi, Foggi e tanti altri consiglieri comunali ma l'ospedale resta ai mazzaresi io non voglio parlare di campanilismo perché dentro la parola campanilismo c'è una storia io parlo invece di quello che noi abbiamo pronto che è questa magnifica struttura che il nostro concittadino mazzarese ha realizzato naturalmente la politica si deve rendere conto dei torti che stiamo ricevendo e parlo del piano aziendale di questa ipotesi del piano aziendale dell'ospedale che sicuramente non gratifica la nostra città anzi mortifica e per me, a mio parere, è uno scippo io ieri ho visto delle immagini tra l'altro che ho postato su Facebook dove ho visto altri ospedali della nostra provincia che sono stati classificati di primo livello secondo me è un'offesa a questa struttura è un'offesa a chi ha lavorato è un'offesa a chi si è impegnato io parto sempre dal presupposto che dobbiamo andare noi giustamente indietro negli anni ma non ne voglio parlare perché la città già ha ben compreso e comunque lo dimostrano la massiccia presenza dei nostri concittadini tutti pensavano, speravano che magari oggi il cortino non avrebbe avuto mai magari questo risultato questo è l'inizio ancora dobbiamo partire vi posso garantire che la città è scesa in piazza per un motivo ben preciso che ha capito cos'è il DM70 come l'ha compreso il consigliere Foggia come hanno compreso il consigliere Randazzo e il consigliere Gangemi questa è una dimostrazione che Mazzare è attenta non è così stupida come crede l'assessore Gucciardi il signor De Nicola o il Partito Democratico noi non abbiamo bisogno di politici di carta abbiamo bisogno di politici seri che si impegnano per la nostra collettività ma che rispettano la nostra salute e noi ci siamo il primo cittadino è stato invitato parteciperà non vedo nessuno ancora dai consiglieri di maggioranza nel primo cittadino o altri consiglieri di maggioranza io posso dire che hanno votato un ordine del giorno in consiglio comunale che chiedono il primo livello e che impegnano l'amministrazione comunale a sedersi nell'istituzione l'interesse è di trovare una soluzione so che il comitato ha invitato tutti come ha invitato noi ha invitato l'amministrazione comunale ha invitato tutti gli altri consiglieri comunali naturalmente ognuno corrisponde alle appropriazioni io ci sono questi consiglieri ci siamo poi la città naturalmente deciderà il da farsi sono convinto che l'amministrazione magari come ha detto come riferito al comitato che si adoperà nei tavoli diciamo istituzionali io spero che questo avvenga anche perché ne abbiamo bisogno naturalmente la lotta da solo diciamo si vanno da una parte ci vogliono i soldati per vincere la guerra ma ci vuole anche il generale che comunque conduce un esercito e l'esercito a Mazzara c'è e l'esercito a Mazzara c'è e l'esercito a Mazzara c'è e l'esercito a Mazzara c'è